L'inflazione è scesa molto più del previsto e ieri i mercati hanno risposto davvero bene, sia quelli obbligazionali che quelli azionari, in termini di rivalutazioni delle loro quotazioni. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Oltre ad approfondire quello che è accaduto a livello di mercato, quali sono le proiezioni, rimanete fino alla fine perché proprio in fondo al video vi mostrerò il classico comportamento dell'investitore medio, anche abbastanza preparato, che è errato a livello proprio mentale, psicologico, di mindset. Quindi quanto sia importante l'ennesima conferma qui sul canale, su quello che andiamo a predicare. Allora, ci eravamo lasciati pochi giorni fa, con questo contenuto 3-4 giorni fa, e vi dicevo, mercato azionario, attenzione al prossimo martedì. Quindi vi spiegavo come, con altissime probabilità, avremmo assistito a una giornata molto interessante. Quindi ora l'abbiamo superata, sto registrando di mercoledì, ieri è una martedì, ed effettivamente è stato così. Non ci voleva la sfera di cristallo. Basta stare attenti su quelli che saranno le date di uscita di alcune indicazioni. E quando escono i dati relativi all'inflazione, nell'attuale epoca, il mercato va in fermento. Perché è il dato che sta influenzando di più le nostre vite, sia nella quotidianità, nell'economia, insomma, nella finanza personale, ma anche per quanto riguarda la nostra vita di investitori, anche perché poi ci saranno tutte scelte conseguenziali dalla parte della Fed, le quali vanno a influenzare tutto quanto il mercato economico-finanziario. Allora, vediamo cosa è successo. Effettivamente c'è stato questo martedì intenso. USA Stocks and Bonds, vedete, sono salite dopo i dati dell'inflazione che sono crollati al 3.2%. Guardate che bello scalino ieri dell'S&P 500. Uno scalino, insomma, ma già c'è questo trend, questo probabile cambiamento dei trend dell'obbligazione, vedete, nell'ultimo mese. Ieri è continuato, ovviamente, dopo l'uscita di quel dato. Oggi probabilmente ci sarà qualche piccola presa di profitto, insomma, il mercato oscilla. Dopo una giornata abbastanza rialzista o un mese positivo ci sta un'assituta un po' negativa, ma già ci va a fornire alcune indicazioni. Stiamo qui vedendo l'andamento del TLT, quindi è pieno di obbligazioni con scadenza a lungo termine statunitensi, ed è uno degli strumenti finanziari più sensibili per quanto riguarda quello che poi accade, effettivamente, tassi di interesse. Ma noi se ci spostiamo sul decennale, sul rendimento, guardate come è interessante. Nell'ultimo mese siamo passati da un rendimento del 5% a 1% in questo momento, mentre il registro del 4,47%. Ciò va a indicare che il mercato comunque si aspetta, nei prossimi trimestri, un alleggerimento, qualche taglio inerente ai tassi di interesse, quindi un ambiente in cui i rendimenti e i tassi sono leggeranno un po' più bassi rispetto a quello a cui abbiamo assistito negli ultimi settimane, negli ultimi tempi. Spostiamoci ancora e allora andiamo a vedere effettivamente quello che ci interessa, quello che è accaduto all'inflation rate. Finalmente abbiamo ripreso il trend disinflazionistico in atto, e guardate cos'è che è piaciuto tanto al mercato. Ovviamente un dato inferiore, quindi quello del 3.2, alle aspettative del 3.3. Il mercato ha festeggiato meglio del previsto. E se noi andiamo a ragionare mese su mese, quindi vediamo quello che è successo in termini di rialzo, ottobre praticamente è stato zero, cioè rispetto ai 12 mesi fa non abbiamo avuto un incremento ottobre su ottobre dell'inflazione. I mesi scorsi invece abbiamo assistito da un minimo 0.1, anche a dei dati superiori, vedete qui 0.6. Zero ecco, non si dà da parecchio tempo, insomma è abbastanza confortante. Andiamo poi a vedere il contributo dell'energia che è stato il più negativo, quindi sicuramente possiamo asserire che l'energia abbia tirato giù l'inflazione. Si temeva esattamente il contrario, ma per la fortuna di tutti quanti noi, diciamo, non è stato così. Il food e il cibo, 3.3, direi che è un rialzo in linea con l'inflazione generale. Se andiamo a vedere il trend del petrolio, ci troviamo in trend ribassista, diciamo, soprattutto qui dal 19 ottobre ad oggi, quindi è un mese che sta andando giù. In realtà già era iniziato questo trend ribassista, ma poi lo scoppio del conflitto, diciamo, nella striscia di Gaza, ha fatto riprendere qui le quotazioni, ma poi di nuovo si è ritornati a un trend ribassista, insomma, di questo breve termine, del termine attuale. Ecco, dei nostri giorni, in questo momento ci troviamo sicuramente così. Infatti, da 91 dollari qui al barile, siamo scesi a 75, in questo momento sta a 77. È in trend ribassista anche il prezzo del gas negli Stati Uniti d'America, da tutto quanto l'anno, lo vediamo da queste colonne qui, quella che è la media, e poi vediamo anche un trend ribassista alla pompa di benzina, quindi quando si va a fare il pieno alla macchina e sta continuando. Tutto ciò, ovviamente, dovrebbe contribuire ulteriormente verso una spinta, verso, diciamo, il basso dell'inflazione. Però andiamo a vedere un altro tipo di indicatore, no? Ovvero, andiamo a escludere dall'inflazione, perché piace tanto alla Fed e a molti analisti, e quei settori troppo volatili, come l'energia e il food. Quindi, vediamo se anche la core si stia comportando bene o meno. Direi di sì, il trend disinflazionistico è confermato. Un altro indebolimento, quindi ancora una volta, il mese attuale ci mostra, anno su anno, un'inflazione più bassa. Ecco che, in prospettiva, i target del 2% per i prossimi trimestri non sembrano poi così lontanissimi. E vediamo anche, ad esempio, il cambiamento negli ultimi 5 mesi della core è estremamente più basso rispetto ai mesi precedenti. Se questo trend fosse confermato anche nei prossimi mesi ci sarebbe un ulteriore crollo della core e davvero un forte avvicinamento, diciamo, intorno al 2%, quantomeno sotto al 3%. Ecco, cambierebbe tutto e non ci sarebbe, non necessiterebbe proprio un mantenimento di tassi di interesse così elevati che comunque portano sofferenza a famiglie, a governi e aziende. Un indicatore veramente importante per capire dove potrebbero spingersi e portarsi prossimamente i tassi di interesse è storicamente, statisticamente, il rendimento dei troesoli con scadenza a 2 anni, come vi ho spiegato tante volte. Quindi riesce sempre ad anticipare. Se vi andate a vedere il recente passato durante il trend rialzista dei tassi di interesse il rendimento a 2 anni era sempre un passo avanti. Dopodiché invece adesso ha cominciato, vedete, a scendere nell'ultimo mese da un 5.2 a un 4.8 quando invece i tassi di interesse sono rimasti fermi. Ma la discesa del rendimento a 2 anni inizia sempre prima, proprio perché, vi ripeto, sta sempre un passo avanti. È proprio nella natura dei mercati finanziari quindi ci si aspetta un taglio il prossimo anno senza se e senza ma. Questo ci indica il mercato. Andiamo un po' a vedere quello che vi dicevo anche all'inizio del video, ovvero il comportamento assurdo sempre degli investitori. E quindi possiamo trarre delle conclusioni molto forti. Io ovviamente le sono convinto da una vita ormai. Sono cose che vi ripeto da quando ho aperto il canale e finora non sono mai stato smentito neppure una volta ed è stato confermato il 100% delle volte. Ora ci arriviamo. E vi anticipo anche che secondo me sarà così finché gli esseri umani rimarranno tali. Poi quando diverremo cyborg non lo so quale sarà il nostro dominio delle emozioni e finché comunque i mercati dipenderanno dalle volontà degli esseri umani. Ecco, fino ad allora rimarrà sempre tutto quanto uguale. Vi sto indicando l'Associazione Americana degli Investitori Individuali. Quindi è un'organizzazione senza scopo di lucro con 150.000 membri il cui scopo è educare i singoli investitori in merito ai portafogli del mercato azionario alla pianificazione finanziaria e ai conti pensionistici. Come mai vi parlo di loro? Perché le interviste sono state fatte ai membri di questa associazione. Solamente una settimana fa perché comunque qui le interviste vengono fatte di continuo gli si chiedeva tu vedi un mercato che sarà rialzista nei prossimi mesi? Cioè era questa la domanda cioè come lo vedi? Solo il 27% delle persone riusciva a vedere un mercato rialzista. Questo accadeva una decina di giorni fa. Ad oggi invece lo vedono il 42.6% delle persone. Ma allora dico io guardate, è il solito giochino. Praticamente qui dopo un ritracciamento del 10% l'S&P 500 meno caro quindi era più a sconto si trovava in iper venduto un'occasione tecnica che potrebbe essere ghiotta per un rimbalzo per una ripresa per un prezzo medio di carico più interessante per un acquisto ecco lì nessuno ha una visione rialzista nessuno vuole comprare l'S&P 500. Dopo che invece abbiamo assistito magari a una decina di giorni veramente forti a una delle settimane di ripresa più importante negli ultimi due anni e sicuramente del 2023 quindi quasi una ripresa e tutto quanto il declino un rialzo più intenso rispetto alla discesa perché è quasi stato recuperato tutto il movimento in un numero di sedute estremamente ridotto rispetto a quelle che sono necessitate per il calo quindi anche il contrario di quello che si dice solente si dice il mercato scende con l'ascensore e sale per le scale e invece qui è sceso per le scale ed è salito con l'ascensore ecco ad oggi invece tutti quanti sono positivi sul mercato compierebbero l'S&P 500 vedete esattamente il contrario di quello che uno dovrebbe fare quindi le emozioni tendono a far comprare agli investitori degli asset quando già sono in trend quindi a dei prezzi più elevati è proprio nella natura dell'essere umano quindi quando c'è la svendita nessuno vuole qualcosa quando invece corre furiosamente verso l'alto tutti la vogliono è proprio nella natura umana e lì ci sono anche delle persone che sono educate a livello finanziario quindi poi ognuno diciamo che può riuscire a trarre le sue conclusioni io lo so la filosofia contraria non è difficile da gestire dal punto di vista emotivo tecnico e così via però secondo me è un approccio molto interessante tanto è vero che gli indicatori di sentiment statisticamente qualcuno dice no non è possibile e invece continua a dimostrarvelo riescono ad essere anche più forti degli indicatori tecnici ogni volta che un indicatore di sentiment sta sotto le scarpe veramente sta vicino a minimi storici a minimi degli ultimi 5-10 anni il minimo del mercato è imminente il rimbalzo è imminente il cambiamento di trend è imminente è stato sempre così e poi ovviamente viceversa quando tutti sono positivi sul mercato tutti vogliono comprare azioni beh c'è da tirare i remi in barca e da essere molto più conservativi e accorti per quanto mi riguarda oggi sono giunto alla conclusione di questo contenuto fatemi sapere voi cosa ne pensate di quello che avete ascoltato io vi do appuntamento a prestissimi iscrivetevi al canale lasciate un bel like per sostenere tutto quanto il mio lavoro qui su youtube e nel frattempo prima di rivederci come sempre io vi auguro il meglio nella vita e negli investimenti ciao ciao